Una giornata carica sicuramente di emozioni, qual è il messaggio che vuole lanciare a tutti i sardi? Il messaggio è che noi vogliamo portare al governo della regione i sardi, sono loro le persone più importanti e la campagna elettorale sarà una campagna elettorale in cui andremo soprattutto ad ascoltare le esigenze dei territori. Abbiamo le idee abbastanza chiare ma la politica è ascolto degli altri, far sentire tutti importanti e portarli, come dicevo prima, al governo della sardina. Nel corso del suo discorso abbiamo letto anche tante emozioni, queste emozioni le accompagneranno durante il suo cammino attraverso l'ascolto del territorio, come diceva? La vita è emozione, quindi per me la politica rappresenta una parte importante della mia vita, come ho detto mi ha reso una persona migliore e l'impegno civile, civico, la forma di volontariato civico più importante che esista, la politica è servizio, mettersi a disposizione degli altri e quindi questa è inevitabilmente emozione, le ho vissute oggi, le vivremo in tutta questa campagna elettorale. E a Lega e Pistazio hai già lanciato un messaggio davvero forte? Io sono convinto che siano parte fondamentale dell'alleanza di centro-destra e non ci sia motivo perché non facciano questo percorso insieme a noi. Quindi li aspettiamo, li aspettiamo nel più breve tempo possibile, questo sì, per rispetto di tutti, nostro, loro e dei cittadini.